Andiamo a rigirare altri tavoli I russi che stanno a giocare a uno Ma che cazzo io so che i russi di uno Hello 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 guys Hello guys Hello what's up guys Oh no no It's not possible It's not possible for us No 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 Oh fuck yeah Oh my god Really No Dio Vabbè uno Secret Hitler E Nick Bliss 7 di 8 Ma che cazzo è il ragazzo schifo Hitler O M G Liberali fascisti Ma che bollissi Che ciocco di merda è This game sucks Oh Oh yeah Fuck you Suck Suck my dick Suck my dick Svankmeier You are confinink You are John Falkmeier Do l'aröh I'll hit I'll I'll R ин Dasy RALL I'll Can you shut off? Can you shut up, bitch? Oh 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 Yeah No, no, peace, peace, peace No Oh Oddio, no, 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 no no, 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 regà Lifед No, decimo Oh HOLY SHIT WHAT THE HELL IS THIS HOLY SHIT WRECKED OH MY GOODNESS HOLY SHIT OH WHAT THE HELL IS THIS NO Don't steal chips Ok, ok, ok Ti premi ragazzi, guardate Mewtwo C'è mi, mi quazzone Mi quazzone Magica, burbasauro Sai che bello fargli vola tutto No, FALLOUT La roulette BINGO BINGO Sono stati davvero veloci Must know rules Non era quello di prima He's a fucking troll No, it's him Dude, ban it Right now, you banned that shit I'll throw your shit from the table It's awesome, you know Hello No, you're No, you're Shut up Can I play, please No, it's too foreign, sorry Ha detto no Dai, ha detto no No Portaci rientro Fammi sclerar No, no, no No, rientro Ti voglio bene, solo per dire una due linee Due, tanto l'account è il mio Shhh You kick me out from the server You piece of shit You're a fucking asshole You're a sd Ha he 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 Non ci fa parlare Mobil spouses He does there Aw Au Oh Oh No, non ci fa parlare Io non lo we badass An 현 semi She He To Help his enfuring thirds He Watch che succede? che succede? che succede? che cazzo ha detto? che cazzo ha detto? non ti mangi l'omogenizzato lo sai che succede? succede che Richard Garriott fai i soldi a noi ci fa così ho venduto e tutti si comprano a cappella a 20.000 euro